C'è la voglia di far bene, difficile in quel senso, perché ancora in una certa continuità non l'abbiamo trovata, per la prima volta la prestazione non è stata quella che trovavamo, quindi c'è la voglia di far bene, nel massimo rispetto di un ottimo avversario, ma fondata voglia di provare a fare il massimo. Una partita? Tranne Coppola e Signorelli e Jans e tutti. Abbiamo piccola infiammazione tendine e un po' da fastidio, però l'impegno e l'atteggiamento è sempre giusto. Vediamo, vediamo, stasera, stavolta più di altre volte qualche ballottaggio c'è e quindi devo considerare oggi e domani quale strategia anche in base all'avversario utilizzare. C'è Raul può dare qualcosa in più? La superatelistica è diversa, infatti è un giocatore che per noi abbiamo sempre detto che è importante e l'abbiamo avuto poco, quindi il fatto che torni adesso dopo una settimana anche in più di allenamento con la squadra, è logico che ti dà ancora più alternative. però a di là dei interpreti era un discorso ed è un discorso che abbraccia anche la predisposizione a cercare di giocare in più, anche se dal punto di vista delle occasioni nell'ultima parte è qualcosa di meglio che abbiamo fatto perché anche con l'Aguedino qualche situazione importante l'ha creata, forse non dato più di Latina o più di altre partite come il derby o come prima, come prima di questo insomma. Quindi alla fine gli sviluppi stanno migliorando e stai crescendo, ma l'atteggiamento del gruppo è positivo. Io penso che senza andare adesso arriva tanto la partita di sabato e senza dare alibi perché appunto non è il mio modo di essere, sabato c'è stato anche un po' di stanchezza mentale perché noi mi ha speso tanto da quel punto di vista in questo mese, i ragazzi perché tu parti con Spezia dove è l'incorso per 70-80 minuti l'avversario, poi Bari è una partita che ti fa spendere perché poi dopo va il derby che è un'altra partita dove spendi, in Latina, in un'altra partita dove abbiamo scusato, forse un pochino siamo arrivati con la testa un po' più pesantita di altre volte.